Parecchi siti americani stanno diffondendo la notizia che vedete, questo è il Wrestling Observer, ma come fonti vengono citate anche Wrestling Inch e Fightful Select, quindi ce ne sono diverse. E cosa dicono tutti costoro? Beh, dicono che il contratto di Adam Cole con la WWE è scaduto a inizio luglio, che le parti si sono incontrate e che hanno stabilito di prolungarlo sino al weekend di SummerSlam, compreso, e poi si vedrà. Ognuno farà le sue valutazioni. Come sapete, quando ci sono i contratti e gli stipendi degli atleti, io sono molto prudente, però qui prendiamo come per vera l'indiscrezione. E se Adam Cole dovesse andarsene, visto il periodo della WWE, che è mediaticamente esposta dopo i licenziamenti recenti, soprattutto quello di Bray Wyatt, se dovesse andarsene sarebbe una bella ulteriore spallata alla federazione dei McMahon. E soprattutto sarebbe uno schiaffo a AAA e a Shawn Michaels che hanno fatto di Cole il loro progetto principale. Che lo hanno fatto diventare, gioco forza, il volto e l'immagine di NXT per diversi anni. Non a caso, Cole è stato campione per 396 giorni consecutivi ed è suo il regno più longevo dell'intera storia del brand sin qui scritta. Cosa accadrà? Non ve lo so dire, Cole paradossalmente potrebbe anche trovarsi in una posizione di trattativa privilegiata, perché è conscio del suo valore di mercato. E d'altra parte WWE sa bene che alcuni suoi affetti e alcuni suoi amici cari lottano altrove, in All Elite Wrestling per esempio. E insomma potrebbe anche dover alzare un po' il tiro, economicamente parlando, nel tentativo di trattenerlo. Beh, la storia è questa. Monitoriamola perché veramente può accadere di tutto.